Ecco la Commissione Giovani della Fondazione Cassa di Risparmio presentati i nove componenti del nuovo organismo selezionati dall'ente di San Micheletto per suggerire progetti ed opere da realizzare. Stadio serve anche la nuova videosorveglianza, via libera dal Consiglio Comunale ai lavori per le torri Faro ma la Questura chiede anche di aggiornare i dispositivi di sicurezza. Intolleranza al lattosio, da Lucca il Vademecum contro le fake news, la Ili, l'associazione nazionale che ha sede nella nostra città ha presentato un dodecalogo contro i falsi miti relativi a questa esigenza alimentare sempre più diffusa. Lo sport ultima chiamata per i playoff, la gara interna di domenica prossima contro il Borgo Manero va assolutamente vinta, i biancorossi la stanno preparando in modo ottimale ma è necessaria anche la sconfitta dello Spezia. Spettacolo al palatagliate con la Night Kick Out, andate in archivio con successo a dir poco strepitoso la nona edizione della manifestazione, organizzata in modo mirabile dal Kurosaki Dojo Pisa e dalla Pro Fight e Fitness di Lucca. Ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi, in apertura parliamo della nuova Commissione Giovani, un nuovo organismo varato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per avere nuove idee su progetti ed opere da realizzare. Sono stati prescelti tra oltre 100 candidati, hanno tra i 18 e i 30 anni, la maggior parte studia ma c'è anche qualcuno che lavora già e arrivano un po' da tutta la provincia, 4 da Lucca e dalla Piana, 3 dalla Media Valle e dalla Garfagnana e 2 dalla Versiglia, rigorosamente in proporzione alle candidature arrivate dalle varie zone del territorio. Sono i nove componenti della Commissione Giovani, il nuovo organismo voluto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per avvicinarsi e dare voce alle nuove generazioni. Ci aspettiamo molto, uno perché sono giovani chiaramente e quindi sono portatori sicuramente idee nuove e questo ne abbiamo sicuramente bisogno, ma provi soprattutto perché devono riuscire a portare a noi quelli che sono i bisogni che sentono i più importanti senza filtre. Mi sono candidato a questo progetto per poter dare idee ad un ente che nel nostro territorio è fondamentale, che ha il potere di promuovere grandi progetti futuri per una fascia d'età che non viene effettivamente rappresentata e che mi sta molto a cuore, perché è la mia fascia d'età, quella dei giovani. Un argomento che ti sta particolarmente a cuore? Ma sicuramente proprio quello della valorizzazione del territorio, far diventare appunto il nostro territorio che ritengo ricco di potenzialità più rilevante anche a livello della regione toscana. Primo obiettivo della Commissione Giovani collaborare con la Fondazione nella selezione dei progetti per il bando Scelta di Campo, dedicato proprio alle idee suggerite dalle nuove generazioni. Dalle nuove opere ai lavori su strutture decisamente più datate, parliamo dello stadio Porta Elisa, il Consiglio Comunale ha dato il via libera ai lavori per la ristrutturazione delle torri faro, ma spunta anche una nuova esigenza, quello dell'aggiornamento della videosorveglianza. Via libera ai lavori di adeguamento dello stadio Porta Elisa anche dal Consiglio Comunale. L'Assemblea di Palazzo Santini ha infatti approvato la prima variazione del piano triennale dei lavori pubblici nel quale è inserito anche l'intervento alle torri faro per complessivi 350.000 euro. Come è noto l'intervento di messa in sicurezza delle torri, è necessario per ottenere l'agibilità dello stadio in deroga anche per la prossima stagione agonistica, in attesa dell'approvazione definitiva del progetto per il nuovo Porta Elisa. L'assessore allo sport Fabio Barzanti ha inoltre annunciato in Consiglio che c'è bisogno di altri lavori allo stadio, anche se non legati alla questione agibilità. Si tratta del rifacimento dell'impianto di videosorveglianza e dello spostamento della sala GOS, gruppo operativo sicurezza, misure richieste dalla Questura. Intanto siamo alla stretta finale per la convocazione della conferenza dei servizi decisoria per l'esame del progetto del nuovo stadio. Entro questa settimana devono essere pronte le istruttorie dei vari uffici comunali coinvolti. Poi si dovrà procedere alla convocazione. Il caro benzina è tornato purtroppo d'attualità nelle ultime settimane. Sentiamo che cosa ne pensano gli automobilisti lucchesi. I prezzi della benzina tornano a salire, ma i lucchesi di lasciare l'auto in garage non ne vogliono proprio sapere. Il boom dei prezzi dei carburanti tradizionali, inoltre, non sembra essere un motivo sufficiente per passare all'elettrico e per chi lavora, le quattro ruote restano ancora un mezzo di trasporto irrinunciabile. A me gli aumenti non mi fanno nulla perché io prendo sempre 50 euro e spendo sempre uguale. È una battuta. Ci fa attenzione prende meno la macchina? Sa, io sono pensionato e quindi diciamo la prendo poco, ma no, non ci faccio attenzione. Siamo schiavi, per ora siamo schiavi della benzina. Il mio sogno è avere una macchina elettrica. Perché non l'ha ancora presa? Perché costa un mucchio di soldi, penso. E poi i miei amici, uno che l'hanno presa, mi hanno detto, Alberto, attento, costa più l'energia elettrica e la benzina. Usa un po' meno la macchina? No, quella quando mi serve la uso. E alla macchina elettrica ci ha mai pensato? Infatti io c'ho da cambiarla, ma non la prenderò senz'altro elettrica. Perché? Perché, visto in America, scoppiano tutte, sempre accendono tutti, ma anche gli stessi autobus prendono fuoco così da niente. Non si fida? No. Ibrida magari, elettrica no. No, no. L'ha metto in atto qualche stratagemma per prendere meno la macchina, per cercare di risparmiare? No, io purtroppo la uso già al minimo indispensabile. Ho dei tragitti lunghi, quindi... Un'ultima domanda. Hai mai pensato, appunto, alla luce di questi rincari, all'auto elettrica, ibrida? La prossima macchina, sicuramente. Lutto nel mondo del commercio a Lucca per la scomparsa di Pierangelo Giannecchini, autentica anima del commercio di Borgo Giannotti, con la tabaccheria che portava il suo nome proprio al centro del quartiere. Eccolo qua nella fotografia, la Confcommercio, imprese per l'Italia, provincia di Lucca e Massa Guerrara, ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia a cui si associa anche tutto lo staff di Noi TV. Adesso la pagina dedicata alle elezioni con il centrodestra che ha deciso ufficialmente l'appoggio compatto al candidato Paolo Rontani come candidato a sindaco di Capandoli. Alla fine il centrodestra ha scelto Paolo Rontani. Come anticipato da Noi TV sarà lui il candidato a sindaco di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Ad annunciarlo con un comunicato congiunto sono stati i rispettivi responsabili provinciali dei partiti. Dopo essere stato scaricato all'ultimo momento cinque anni fa, Rontani aveva giocato d'anticipo e aveva annunciato la sua candidatura a sindaco lo scorso dicembre con il supporto della lista Capanno Ricambia. Una lista civica aveva sottolineato più volte il 69enne commercialista. La mossa aveva colto di sorpresa i partiti locali che per quattro mesi hanno dibattuto sulla possibilità di presentare una candidatura alternativa. Qualche settimana fa la svolta con l'apertura decisa di Fratelli d'Italia all'appoggio a Rontani e adesso tutto il centrodestra si schiera compatto con l'ex consigliere comunale. Dopo vent'anni di amministrazione monocolore PD riteniamo che sia giunto il tempo di voltare pagina per la guida dello strategico comune della Piana, si legge nel comunicato congiunto del centrodestra. Guardiamo al modello Lucca dove la politica del fare e l'ambizione di pensare in grande stanno dando risultati vincenti. La Polizia Municipale di Lucca ha partecipato ai controlli su velocipedi a pedalata assistita organizzati dalla motorizzazione civile nel centro storico. Con la postazione mobile dotata di opportune strumentazioni sono state controllate le prestazioni dei mezzi elettrici per verificare la rispondenza alle caratteristiche omologate o la presenza di manomissioni che alterino velocità e potenza. Sono state inoltre fornite informazioni sull'argomento. Ci spostiamo adesso ai confini di Lucca, Ponte Allabate. Il comune di Capannori ha reso note le viabilità alternative per auto e autobus in coincidenza della chiusura del ponte per lavori di ristrutturazione. In attesa dell'apertura vera e propria del cantiere a Ponte Allabate, il comune di Capannori ha annunciato le modifiche alla viabilità che entreranno in vigore dal prossimo 21 maggio, data fissata per la totale chiusura al traffico del ponte. In realtà, già stabilito il percorso per i mezzi pesanti diretti alle cartiere di villa e per i veicoli provenienti da Pescia, l'unico dubbio rimasto riguardava vetture e auto provenienti da Lucca. A questo proposito, il comune di Capannori ha confermato che sarà adottata la soluzione proposta dal comune di Pescia. Auto e bus dovranno girare obbligatoriamente a destra prima del ponte Allabate e passare da Veneri. Il percorso alternativo sarà segnalato da un'apposita segnaletica. Per i mezzi provenienti da Lucca dovrebbe comunque rimanere possibile anche il passaggio da San Gennaro. In ogni caso, sembra definitivamente tramontata l'alternativa proposta dalla provincia di Lucca e dal comune di Villa Basilica, cioè quella di far ritornare a doppio senso di marcia via di confine. Il comune di Capannori ha anche precisato che via delle Fornacette a Lappato resterà percorribile nei due sensi di marcia. Torniamo a Lucca, la manifestazione Fashion in Flair torna al Real Collegio dal 3 al 5 maggio. Un salotto del Made in Italy che per numero di visitatori ed espositori diventa una vera e propria fiera. Fashion in Flair festeggia la sua quindicesima edizione e torna negli spazi del Real Collegio con ben 120 espositori e una nuova area in giardino interamente dedicata al food. I visitatori di questa edizione troveranno tutto quello che riguarda la nuova stagione, quindi primavera e estate 2024, 120 artigiani provenienti da tutta Italia, quest'anno arrivano dal Trentino fino alla Sardegna, quindi siamo veramente orgogliosi di quello che stiamo portando a Lucca e troveranno collezioni per tutto quello che appunto riguarda la nuova stagione. Allora intanto la direzione sta prendendo sempre di più quella che è la sostenibilità e il green, quindi tantissimi espositori che si stanno spingendo in questa direzione, dal beauty care fino all'abbigliamento in bambù e abbigliamento veramente con materiali sempre più nuovi e sempre particolari e poi tantissimi accessori, tantissimo abbigliamento, cosa portiamo quest'anno di nuovo è anche moltissima calzatura ed è una novità perché fino all'edizione precedente ecco questa particolarità non c'era, quindi siamo anche di questo molto felici. Tra le novità dell'edizione primaverile la presenza dell'associazione Onlus Knitted Knockers Italy con le sue protesi lavorate a mano, a maglia e all'uncinetto per le donne che hanno subito una mastectomia. La musica e il cantautore Romano Antonello Venditti si esibirà in concerto il 3 agosto alla fortezza di Montalfonso di Castelnuovo Garfagnana nell'ambito del festival Montalfonso Sotto le Stelle. Il concerto rientra nel tour dedicato al quarantesimo anniversario del brano Notte prima degli esami. Parliamo di un'intolleranza alimentare particolarmente diffusa, quella al lattosio perché da Lucca, dall'associazione Aili che ha sede proprio nella nostra città, prende il via un vademecum, è stato realizzato un vademecum proprio contro le fake news relative all'intolleranza al lattosio. Una guida è indispensabile per chiarire tutti i falsi miti sull'intolleranza al lattosio, un'esigenza alimentare sempre più frequente che riguarda circa il 50% della popolazione italiana. È stato presentato nella sala dell'antica armeria di Palazzo Ducale il dodecalogo dal titolo Vero falso dell'intolleranza al lattosio, pubblicato dall'Aili, l'associazione italiana Latto Intolleranti che ha sede proprio a Lucca. A presentare la pubblicazione, alla presenza del vice sindaco di Lucca Giovanni Minniti, della presidente regionale dell'associazione dietetica e nutrizione clinica Maria Luisa Luisi e del dietista Nico Donati, la presidente nazionale dell'Aili Maria Sole Facioni. Abbiamo maturato l'idea in questi primi dieci anni, quasi undici, dell'associazione Aili, dove abbiamo fatto tesoro e abbiamo raccolto tutti i commenti, le storie, i racconti dei nostri associati e non. E prima di tutto anch'io sono passata come paziente, quindi purtroppo queste fake news, nonostante siano passate gli anni, ancora oggi sono attuali. Ma quali sono alcune delle domande alle quali dar risposta il vademecum? Una su tutti è se la lattuga contiene lattosio o altrimenti se la mozzarella di bufala contiene lattosio, se esistono gradi di intolleranza oppure se l'intolleranza al lattosio può essere transitoria o permanente. Quindi ci sono tante curiosità da scoprire in questo documento, che è sicuramente un vademecum sia per chi è intollerante a lattosio, quindi già diagnosticato, o per coloro che ancora non sanno di essere intolleranti e navigano nel buio dei sintomi in prossimità della loro diagnosi. È tutto per la prima parte dell'ETG, adesso la pubblicità e subito dopo lo sport.